Sì, Melegoni, c'è anche Palazzi che sta bene, tutti e due, però sì, credo che Melegoni è giusto dargli una chance perché è un ragazzo che merita, come tutti d'altronde, quelli che sono qui. Io ho fiducia di tutti, l'ho sempre detto, lo ribadisco. Poi ci sono dei momenti come questi di campionato che vedi che tu hai bisogno di tutti. Ci sono momenti che io li ho messi già in preventivo. Io sapevo che poteva succedere un momento così, sapevo che poteva succedere anche un momento di flessione. Sono tutte cose che una natura deve mettere nel conto. Non è che poi tutta l'annata va tutto bene, va tutto sparato, va tutto... Eh, magari fosse così. Devi mettere nel conto tutto. Poi devi trovare le soluzioni, devi vedere la cosa migliore. Ma io sono sicuro che domani faremo una partita tosta, saremo aggressivi, saremo una squadra scorbutica. Questo me la sento che sarà così. No, sono critiche costruttive, nel senso che io posso darmi una risposta. Se siamo primi o secondi in classifica come siamo stati, la squadra vuol dire che qualcosa di buono stava facendo. Non è che tu ti alzi alla mattina, i tre e mezzo stanno facendo bene e dici, beh, togliamo uno così tanto perché devo far giocare. Se uno merita perché devo toglierlo. Per ruotare, se ci sono delle cause precise si ruotano. Poi capita come questi momenti e io sono sicuro perché quelli che sono dietro, che non hanno giocato con continuità, si sono sempre allenati bene, sono stati professionisti, hanno fatto bene. Per questo sono fiducioso e guardo il bicchiere mezzo pieno. Quello mezzo vuoto ve lo lascio a voi. Ultimamente questa è una riflessione giusta. Abbiamo perso un po' di compattezza di squadra. Ecco, lei esclude una problematica di natura fisica? No, la escludo questa. La escludo? Sì. E' solo una questione mentale? No, è una questione che se tu lavori nei 20 metri, sei corto, fai meno fatica. Quando tu lavori sui 40 metri, fai più fatica. No, no, la squadra che in questo momento sta attraversando anche un buon momento di condizione. Molto organizzata, che gioca bene al calcio. Molto propositiva perché gioca bene. C'ha i due davanti e il Ren, molto bravi dal mio punto di vista. Attacca gli spazi, sono bravi. E' una squadra che secondo me cerca sempre di giocare. Ma queste partite che giochiamo con squadre che si aprono, insomma, non le abbiamo mai sbagliate.